salve a tutti era un sacco di tempo che volevo pubblicare questo video scusate l'introduzione schifosa fatta con windows movie maker ma non so usare altri programmi di editing solo la musica è fantastica ma non è mia in ogni caso un simile ingresso trionfale è funzionale a quello che vi mostrerò oggi con questo tutorial tre tecniche di griffing di altissimo livello inventate da me che vi permetteranno come dicono i loro nomi di rubare blocchi inondare murare in zone protette con book kit i costruttori ormai sono spacciati per usarle non serve neanche tanto materiale vi basteranno un pistone non appiccicoso un secchio di lava uno di acqua e qualche blocco tutte queste tre tecniche si basano su una macchina che forse molti di voi conoscono il generatore di pietra tutti i griffer sanno che mettendo a contatto lava che scorre e acqua la lava pietrifica questa macchina consente di controllare questo processo creando una fila ordinata di blocchi che viene spinta in avanti dal pistone man mano che si forma e qui viene il bello infatti i blocchi spinti in avanti così possono facilmente entrare nelle zone protette da plugin come word guard e word edit e questo ci consentirà di rendere la vita degli addomi in un inferno per fare questo tutorial ho assemblato in casa un server book kit coi due plugin sovracitati e ho fatto in modo di non poter distruggere con le tecniche tradizionali le zone su cui avevo costruito modificando i permessi sul server ora iniziamo come potete vedere i plugin ora sono abilitati e non mi consentono di distruggerla a picconate ma con questa tecnica riuscirò comunque a riempirne l'interno di pietra ho dato fuoco al bosco qui intorno per avere velocemente più spazio e ora passiamo alla costruzione della macchina sul primo blocco non protetto disponibile la prima cosa da fare è portarsi all'altezza della casa magari costruendo una piattaforma poi bisogna creare usando tre blocchi il serbatoio della lava come vedete nel video fatto questo rivolgetevi dalla parte opposta della costruzione da griffare e piazzate il pistone verso di essa come vedete qui quindi mettete la leva su un blocco adiacente e usatela per attivare codesto pistone a pistone attivo piazzate la lama nel serbatoio e l'acqua nel lato opposto esattamente come mostrato nota l'acqua deve sempre scendere verso il basso quando fate questa operazione o inonderete tutto se siete su una piattaforma non avrete problemi ma se siete a terra scavate un buco profondo un blocco per incanalare il flusso d'acqua verso il terreno a lato della testa del pistone fatto ciò non vi resta che attivare ripetutamente la leva come mostrato per spingere i blocchi nella casa ripetete tutta questa procedura su più file e la riempirete di pietra ecco il risultato ora ti sfido a viverci qui dentro questa tecnica è semplicemente fenomenale vi permetterà di rifornirvi di materiali preziosi e nel contempo di beffare gli addomini in una maniera indecente se ben applicata questa tecnica forse è quella più devastante in pratica useremo anche qui il generatore ma questa volta per sostituire i blocchi d'oro di cui è fatta questa pseudo statua con altri di volgare pietra senza valore se poi toglierete il pistone tutto l'arresto e non vi farete beccare gli addomini cominceranno a cristonare in cerchio per il furto e ad incolparsi a vicenda visto che di norma sono gli unici a poter modificare costruzioni protette con scene che posso solo lontanamente immaginare ovviamente questa cosa vale per tutte queste tecniche se fate sparire tutto l'ambarada poi in chat potrete divertirvi scusate le mie limitate abilità artistiche ma l'importante era far capire il concetto d'altronde i griffer distruggono non costruiscono ora vi presento un'altra tecnica devastante con questa variante dell'antiboot kit come dice il nome potrete inondare di acqua o lava le zone protette il principale difetto di questa tecnica è come vedremo che è molto lenta quindi è facile farsi beccare se non si è al server vuoto comunque per iniziare usate una torre uno per uno per portarvi più in alto della costruzione da griffare fatto ciò costruite una piattaforma e lì sopra il generatore di pietra ora come negli altri casi attivate ripetutamente la leva per creare una fila di blocchi abbastanza lunga da raggiungere la zona da griffare raccomando sempre di contare il numero di blocchi che fate creare dal generatore e soprattutto di crearne il meno possibile più è lunga la distanza che coprite e più vedremo che sarà lunga la procedura inoltre ricordatevi che non potete comunque colpire costruzioni che distano più di 15 blocchi di distanza questo perché i pistoni di minecraft spingono in avanti massimo 15 blocchi e questo di conseguenza vale per tutte e tre le tecniche ok perfetto ora il nostro obiettivo sarà creare una scala di pietra da cui far colare la lava e all'acqua per farlo dovremo creare altre file di blocchi sopra questa con sempre un blocco in meno man mano che si va in alto capite ora perché è una tecnica lunga se non farete così i liquidi scenderanno solo ai lati della scala non raggiungendo la casa taglierò tutta questa parte per non farvi annoiare troppo tanto l'esecuzione è ovvia ecco come si presenta la scala quando è finita ora facciamo un po di test prima usiamo l'acqua perfetto funziona ora la lava fantastico ovviamente potete anche usare la tecnica della pietrificazione va anche questa non mi meravigliate se ho tolto la lava mettendoci un blocco ma è perché in questo server sono admin quindi con un comando posso auto fornirmi di lastre di lava e acqua ma non di secchi dannato biome nevato andiamo a vedere il risultato a terra ditemi se questo non è un capolavoro se andiamo a vedere più da vicino ci accorgeremo che la pietra ha murato pure l'ingresso spero di esservi stato utile nel mostrarvi queste tecniche che ritengo davvero devastanti e in grado di cambiare la storia del griffing in minecraft scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se vi va iscrivetevi al mio canale o lasciate un mi piace al video arrivederci alla prossima